E' bellissima giornata da tutti i punti di vista, il momento dell'accensione della lampada è sempre speciale, è una specie di forte augurio per tutto il Paese, ma noi lo sentiamo ovviamente in modo particolare per la Regione, la presenza del Capo dello Stato ha reso la cosa ancora più forte e molto significativa immaginando quello che abbiamo visto, pensando quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, immaginando quanto abbiamo bisogno da qui in avanti di poter vedere con una città diversa quello che accadrà, quindi è un segno di grande speranza e di volontà di rialzarci dopo momenti lunghi e difficili, quindi la presenza del Capo dello Stato ha veramente dato una grande forza a questa esperienza di oggi che nella tradizione si rinnova con segni così importanti.